L'Istituto Don Bosco d'Assisi apre le proprie porte di solidarietà, 11 aule, 90 posti letti dedicati alle famiglie degli sfollati. Sì, a seguito della nota ricevuta dal Comune Editore del Greco abbiamo prontamente dato la nostra disponibilità per l'accoglienza degli sfollati all'interno del nostro istituto e attraverso una sinergia tra la scuola e l'ente locale è stato possibile organizzare le 11 aule per complessivi 90 posti letto, riqualificare 8 docce e svariati servizi igienici per poter offrire un'accoglienza quanto più confortevole a queste famiglie considerato il grave disagio che stanno provando. Reca la data di ieri, 17 luglio, la nota a firma del sindaco Luigi Mennella è indirizzata alla dirigente scolastica dell'Istituto Don Bosco d'Assisi con la quale il primo cittadino ha disposto la sistemazione delle famiglie sgombrate presso la sede scolastica di via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. È stato scelto questo istituto perché chiaramente è l'istituto più contiguo a quelli che sono i luoghi del disastro e dunque per consentire anche alle famiglie di rimanere nel loro ambiente, nel loro quartiere, nel loro territorio e potendo contare sulla sperimentata collaborazione della scuola che in tante altre occasioni ha sempre dimostrato di essere a fianco dell'amministrazione per fronteggiare le emergenze che la nostra città ha vissuto. Un provvedimento necessario e contingente deciso nella sede operativa del centro operativo comunale che rientra nell'alveo di tutte le azioni da mettere in campo per garantire la migliore fruizione degli spazi a favore degli sfollati compreso dei servizi igienici. Si parla di situazione emergenziale e di contingenza quindi pensiamo che il periodo sia un periodo estremamente breve confermato anche in maniera informale dallo stesso sindaco e dalla stessa dottorista Sorrentino in quanto le famiglie ospitate presso la scuola sono famiglie degli edifici attivi a quelle del crollo e quindi a seguito di positive verifiche da parte degli organi tecnici dovrebbero rientrare nelle loro case. Una determinazione temporanea che non dovrebbe alterare tuttavia il naturale inizio del nuovo anno scolastico. Ci auguriamo di no perché la sede d'Assisi è una sede dove gli spazi sono tutti occupati perché negli anni abbiamo avuto un incremento di alunni presso la nostra scuola e l'incremento degli alunni unito alla riqualificazione di tanti locali che sono oggi diventati dei moderni laboratori per la scuola non consentirebbero di ospitare queste famiglie anche ad anno scolastico iniziato. Grazie Grazie Grazie